Benvenuti sul canale, questo è un breve spot. La soppopera turca Terra Amara continua a regalare emozione e colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Dopo la pausa del 24 e del 25 aprile, la serie tornerà in onda mercoledì 26 aprile con una puntata ricca di tensione e dramma. Vedremo infatti il parto di Zuleyla e Mujigan, le due donne che hanno in comune l'amore per Ilma. Le due si ritroveranno nella stessa sala part, dove daranno alla luce i loro figli. Ma mentre Zuleyla sarà molto felice per la nascita della sua bambina Leila, Mujigan dovrà affrontare una situazione drammatica purtroppo. Il suo piccolo bimbo, il maschietto che remma lì, è nato prematuro e ha seri problemi ai polmoni. Il bambino verrà messo in un'incobatrice e sarà tra la vita e la morte. Mujigan sarà disperata e rifiuterà la compassione di chiunque, anche di Ilma, che in quel momento si sentirà perfettamente impotente e colpevole per quello che ha fatto, cioè prestare assistenza a Zuleyla per accompagnarla in ospedale, mentre sua moglie in quel momento cercava lui per chiedergli aiuto e per farsi aiutare. Ma eccoci qui, nella puntata di giovedì 27 aprile assisteremo invece ad altri sviluppi della trama. Ma fermiamoci un attimo, vi siete ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale? Se non lo avete ancora fatto, fatelo subito, così potremo continuare questo cammino tutti uniti. Mentre in ospedale i medici cercheranno di salvare il piccolo che remma lì, la famiglia Akaia sarà sconvolta dal dolore. Anche Demir, il marito di Zuleyla e Rivane di Ilmaz, si dispiacerà molto per la situazione che sta vivendo Ilmaz e vorrà quasi consolare il suo nemico, ma lo guarderà ripetutamente e poi non avrà il coraggio di avvicinarsi a lui per farlo. Sabatin invece, il primario dell'ospedale, è ormai fidanzato con Juley, il giudice, e farà una promessa a Mujigan e Ilmaz. Infatti, gli promette che lui farà tutto il possibile per far sì che il loro bambino possa sopravvivere. Nel frattempo, alle baracche ci saranno delle tensioni tra tutti i braccianti. Usnu e Sabri si contenderanno una nuova baracca in cui andare a vivere e a questo punto scoprirà una grandissima rissa tra i due. Sanye e Gulten, che saranno impegnate a distribuire gli abiti ai bambini poveri, dovranno a questo punto intervenire per sedare questa lite terribile. Sanye deciderà a questo punto di portarsi con sé la piccola Uzun alla villa, Yaman, e non vorrà più lasciarla vivere in quel villaggio perché la madre lavora sempre nei campi e la lascia spezzosola. La puntata si concluderà così con un evento drammatico, un incendio al fienile della tenuta Yaman. Chi avrà piccato il fuoco e chi sarà in pericolo? Per scoprirlo bisognerà seguire le prossime puntate di Terra Amara oppure, se vuoi, nel mio canale dove sei tu ora puoi cercarlo che l'ho appena messo un video dove nel dettaglio ti racconta esattamente chi è stato davvero appiccato il fuoco e chi è rimasto imprigionato all'interno della stalla e rischierà di morire. Continua a guardare la Sob Turca che ci tiene incollati tutti alla televisione ma soprattutto continua a seguirmi e ad iscriverti al canale per vedere tutte le altre news e ti assicuro ogni giorno ne troverai una. Al prossimo video! Grazie a tutti!